Giusto perché domani mattino la lezione è presto. Sì. Guarda Giorgia come la guarda. Vabbè ma è enorme. No ma poi non balli così. Vabbè. Ma tu ti li metti. Marlenis di Soi un Torito. Io Soi un Torito. Ha fatto anche così con le spalle. Grande. Ma lei non si chiede perché aveva queste orecchie? No. Però sta arrossendo visibilmente. Sei una bellatura veramente. Ma veramente sono una bellatura? Sì. Sono la moda o no? No. Ma ti piace? Perché? E siamo solo all'inizio che era Giorgia. Ma è bellissimo. Io uscirei con te anche questa sera guarda. Non mi piace.